Buonasera, noi siamo Cecco Vecchi e Storti, siamo il duo di improvvisazione teatrale, quindi eccezionale veramente. E come improvvisatori abbiamo bisogno di costruire il nostro intervento grazie ai vostri suggerimenti, come l'altra volta. Chiederemo un'azione pratica quotidiana, che fate, che ne so, la mattina, il pomeriggio, la sera. La sera, quella che volete voi. Cerco sempre le chiavi e difficilmente le trovo. Sì, scusami, della macchina, della macchina. Le chiavi della macchina. A Carlo chiediamo la parola finale con la quale termineremo la nostra improvvisazione. O no. O no? O no. O no. Quando noi diremo no, l'improvvisazione è finita. La nostra azione è cercare un mazzo di chiavi, a differenza dell'altra volta che abbiamo parlato in rima, questa volta cambieremo e improvviseremo seguendo delle atmosfere musicali. Se la musica è romantica, noi saremo romantici. Se la musica fa paura, noi faremo paura e così via. Cecco Vecchi e Storti, via. Ecco fatto. Ecco la macchina. Devo andare velocemente dove ho messo le chiavi. Sono qui, vedi? Le lenti, le lenti, le lenti, le lenti. Tu sei la chiave per... Sì, sono la chiave. Sono la chiave della panda, dai. Ascolta, devi entrare qua dentro. Non posso, adesso devo forzare la serratura. Devi entrare là dentro, io ti amo. Perché mi chiavi. Come? No, era per dire... Vieni. Ti fidi di me. Mi fido di te. Perchiamoci. Come ti chiami? Schiavo. Per rompere il ghiaccio. Così, per rompere il ghiaccio. Dobbiamo entrare dentro, ascolta. Ti fidi di me. Io sì, tu ti fidi. Eh, insomma, non lo so. Ascolta, devi entrare dentro... Dentro la panda. Dentro il pertugio. Ascolta! Dobbiamo fare la svancia. Perché sono l'otto di massina. Dobbiamo... Io do un appuntamento di lavoro. Porta, vincami dentro la panda. Panda, 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 panda. Che panda è? È una quattro per quattro. Sì, 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 sì. Entra dentro. Andiamo. Allora, vai, dentro il cruscotto. Ma panda dove? Va a qualche parte. Andiamo. Vai. Oddio, non funziona la baccelia. Sì. Dobbiamo andare, dobbiamo fare qualcosa. Come possiamo senza baccelia? Non lo so. Forse perché... Io sono la panda. Oddio. Lo vedi? Che cos'è? L'occhio nero. L'occhio nero del panda. Salere. Ti prego. Portami via. Ti devi accendere. Non mi accenderò mai. Ascolta. Io devo andare a lavoro. Faccio tardi se non parte la panda. Guidami. Ti guido io? Sì. Quello è il freno a mano. Dov'è? Qua? Sì. Asca. Asca. Forza. Entra da solo, ti prego. Entra da solo. Sì. Guarda. Non soffrirai più pene dell'inferno. Non soffrirò più le pene. Allora mi puoi chiamare finalmente. Ascolta. Come si deve, dimmi. Non mi devi ricordare questa cosa. Perché vedi, tra me e te non può funzionare. Tra una panda e un uomo. No. No, non può funzionare. Tra un panda e un uomo, no. Questa macchina andrà qui, basta. Io me ne vado e vado dal ferramenta. Sono anche rottamabile ormai. Sì. Vado dal ferramenta a fare un'altra chiave. Vai allora. Vado là. Perché sta per chiudere il ferramenta e tu rimarrai qua. Ricordati che il ferramenta chiude alle otto di pomeriggio. Devo correre. Devo correre. Ricordati. Ci sto provando. Portati le chiave con te. Guarda. Coscia. Ha chiuso. Allora possiamo dire. Oh no. Bravi. 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 Secco vecchi e storti. Bravi. Bravi. Bravi.